Con Alessandro Berdini, direttore del circuito ATCL, per parlare di piccoli comuni incontrano la cultura. Dal 28 settembre al 30 novembre 2019. Alessandro, ben trovato. Salve, buongiorno. Ci racconti di questa iniziativa? Certo, questa è un'iniziativa molto interessante e molto particolare. È interessante perché chiaramente si mettono in rete tanti comuni, precisamente sono 47 piccoli comuni, sono queste piccole amministrazioni sotto i 5 mila abitanti. Chiaramente metterli in rete è un fatto interessantissimo perché andiamo a scoprire o a rivedere in qualche modo fatte cose che abbiamo forse un pochino troppo negli ultimi tempi dimenticato. Loro hanno un patrimonio straordinario, chiese molto belle, hanno musei diffusi, hanno piccole biblioteche. C'è una vita che chiaramente noi abitiamo in una città poco conosciuta e che va con alcuni rifletti fuori accesa e rimessa chiaramente in gioco. Abbiamo inaugurato il progetto con il maestro Piovani all'interno di uno dei borghi più belli d'Italia, tra i 100 borghi più belli d'Italia, a San Pietro Romano ed è stata chiaramente un'esperienza straordinaria. E quindi chiaramente speriamo che continui così perché il nostro intenso come circuito regionale è quello di rendere stabile questa iniziativa tra la città di Roma e i piccoli comuni, perché è un problema non solamente nazionale ma un problema nazionale. I piccoli comuni sono migliaia e sono migliaia e gli abitanti di questi piccoli comuni sotto i 5 mila abitanti in Italia sono 10 milioni. Quanti saranno gli eventi nel complesso? I 60-70 perché dal punto di vista degli spettacoli sono 47 serate di spettacolo. Dall'altra però abbiamo aperto dei format che sono interessantissimi, che sono dei format dove andiamo proprio con anche i primi cittadini a parlare di come si vive e di che cosa c'è in questi comuni e di quali sono anche le aspettative della gente che abita in questi piccoli comuni. Quindi c'è un format che racconteremo e sapremo chiaramente di quello che succede in queste piccole realtà che si chiama conversazioni tra vicoli e mura. Poi c'è una bellissima iniziativa con la Film Commission del Lazio dove parleremo del cinema che ha avuto una storia fortissima in questi piccoli comuni soprattutto negli anni 50 e 60 e lo riporteremo nella conoscenza e lo ricorderemo per i giovani quello che ha significato chiaramente il cinema in questi piccoli comuni. Dall'altra due bellissime iniziative con due progetti speciali della regione Lazio in collaborazione con ABC Arte, Bellezza e Cultura. Uno riguarda chiaramente il fumetto e l'altro riguarda che andremo a spasso per questi piccoli comuni con dei nomi del giornalismo, del teatro eccetera eccetera e poi andremo con la gente a spasso per riconoscere i luoghi francamente accenzionali. Come era nato tutto? Già anni fa insieme al nostro presidente Luca Fornani della TCL, anni fa ci venne in mente che al di là di quelle che erano le strutture che noi accudiamo un servizio, che sono i 30 teatri che sono collocati nelle grandi e medie città del Lazio, abbiamo scoperto francamente che in questi piccoli comuni ci sono delle risorse umane, strutturali veramente belle e interessanti e quindi è giusto per ridare l'infa il piccolo ha bisogno del grande e il grande ha bisogno del piccolo e questo progetto vuole significare questo, riaprire le speranze all'Italia, ai piccoli comuni e chiaramente è la cultura, è il viatico, è un modello che sicuramente è utile per far crescere ma anche per far conoscere un pezzo d'Italia che è fondamentale. Ci lasci anche tutti i riferimenti internet per seguire la programmazione? Sì certo, i riferimenti internet sono tanti, però il più prezioso è quello nostro www.atcl.it www.atcl.it che è quello che è tagliato, su Facebook trovate tutto e sugli altri social trovate tutto, basta digitare i piccoli comuni. Per fortuna ringraziamo tutti, insomma ci stanno veramente seguendo con passione e con amore tantissimi social, veramente siamo contenti. Piccoli comuni incontrano la cultura in 47 comuni del Lazio dal 28 settembre al 30 novembre 2019, un saluto e un ringraziamento ad Alessandro Berdini, direttore del circuito ATCL. Un abbraccio in bocca al lupo a risentirci presto. Grazie a voi, grazie.